Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo fantasy che porta la mitologia cinese e le ambientazioni mistiche a nuovi livelli. Un vampiro, uno spirito volpe e una manciata di demoni. Un essere umano con un cuore d'oro che racconta magistralmente la storia di come i loro destini si intrecciano. La trama del libro Shanghai Mortal della scrittrice Ei Chao, pubblicato dalla casa editrice E.O., è la seguente. Venduta dalla madre al re dell'inferno quando era bambina, Lady Jing è mezza vampira, mezza Uli Jing, uno spirito volpe. Come protetta del re, ha passato gli ultimi 90 anni a svolgere commissioni, evitare le frecciatine dei maliziosi cortigiani Uli Jing e cercare di controllare la sua esplosiva irascibilità con risultati altalenanti. Quando Jing scopre che alcuni cortigiani tramano per rubare una preziosa perla di drago al re, coglie l'occasione per smascherarli una volta per tutte. Con l'aiuto di Mr. Li, un mortale incaricato di creare la banca centrale dell'inferno, Jing intraprende una folle corsa alla ricerca di informazioni, prima nell'inferno e poi nella Shanghai mortale. Ma quando le sobravate mettono in pericolo Mr. Li, deve decidere cosa è più importante, vendicare la perdita del prestigio del re, o abbandonare il proprio approccio cinico alla vita per avere la possibilità di provare tenerezza e trovare anche l'amore. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.